Inaugurato a Rio de Janeiro il villaggio olimpico che a partire dal 24 luglio prossimo ospiterà gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi. Con 31 edifici e oltre 3600 appartamenti, quello brasiliano è il villaggio olimpico più grande della storia. All'interno ci sono campi da tennis, piscine e luoghi di culto per differenti fedi. A disposizione delle squadre anche videogiochi, strumenti musicali, centri estetici e psicologi.